Cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Apriamo con la 1 in direzione Bologna, rallentamenti per veicolo in avaria, tra Calenzano e la variante di Valico, in direzione Roma, rallentamenti sempre per veicolo in avaria, tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Il FIPILI farà attenzione per vento forte tra la diramazione per Pisa e Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Prima di salutarci ricordiamo l'allerta codice giallo per vento prevista oggi e domani su tutto il territorio della città metropolitana di Firenze, ad eccezione dell'Alto Mugello. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!